Sono ritornato. È bello vedere una faccia amica, persino il tuo brutto muso. Credevo che avremo scritto questa saga insieme, ma è già tempo che vada, pur avendo scambiato appena un brindisi. Non temere, Eivor. Ne scriveremo molte altre insieme. I nostri nomi sono di nuovo puliti, di nuovo degni. Sì, è così. Una saga di Gloucester. Terra stupenda, piena di dannati idioti. Ah, merita un brindisi. Ti ringrazio. Qualunque cosa per te, amico mio. Dunque, andiamo a salutare questo re di Vimini e torniamocene a casa. Sì. Randvi sarà ansiosa di conoscere Brigid. Brigid e Gunnar sono già partiti. Devo raggiungerli. Gli devi una profezia, strega. Sì, eccotela. Tu sei un grande guerriero, vincitore in queste terre e in quelle da cui proviene. Ma alla fine di ogni cosa, ciò che ti rimarrà saranno soltanto i tuoi rimpianti. Io capisco. Ci siamo conosciuti proprio all'ascensione di Simkin nell'uomo di Vimini. Ricordo che fu amore al primo sguardo. Tanto tempo fa. Quale poetica simmetria dopo vent'anni di prosperità. Gwen! Ti prego, non farlo! Possiamo bruciare altro! Qualcun altro! Stai tranquilla, tesoro mio. Mi unirò alla terra che fa crescere gli alberi e l'orzo. Il mio corpo nutrirà gli dèi, i vermi. Persino te. Sì, quindi sarò sempre qui. E fra tanto, tanto tempo, quando tu sarai ormai vecchia e rugosa come una mela, ci rivedremo ancora. Padre, credevo di essere pronta. È l'ora. Allora, questa è tua. Questa è la tua via, Tefter. Niente e nessuno potrà intralciarti. E tu, Eivor, amico del Glow Chestershire, sei stato all'altezza della tua reputazione. So che mi devi meno di niente, ma ti prego, abbi cura di loro. Non traggo piacere dalle sofferenze altrui. Lo sapresti se mi avessi dato un'opportunità. Per vent'anni sono stato il vostro aldermanno. Queste vecchie ossa sono pronte all'ultimo incarico. Ho lavorato al vostro fianco. Ho ripulito campi. Miscelato bevande. Assistito a nascite e a morti. Crescendo e imparando. L'uomo di Vimini è pronto, Osire. L'altare vi attende. È un grande onore essere il vostro re del raccolto. Che queste sacre fiamme possano assicurare messi abbondanti e inverni miti e brevi. Nonostante tutto, ha avuto la fine che voleva. Dritto nelle fauci di dei affamati. Eivor, l'onore spetta a te. L'uomo di Vimini è raccolto. L'uomo di Vimini è raccolto. Dannati i pagani. Eivor, l'uomo di Vimini è raccolto. L'uomo di Vimini è raccolto. Padre nostro, che sei nei cieli. Padre nostra, che abiti la terra. Vi prego. Vi prego. Accettate questa offerta. Prendete pure la mia carne e le mie ossa. Benedite! 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 Buona notizia. Grazie a tutti. 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 Ci vediamo presto. Ecco qua, in una lontana oasi nel deserto. Un luogo di misteri prodigio. Convoca il mio luogo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si è fatto tardi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quanto tempo fa, in una lontana oasi nel deserto. Un luogo di... Un luogo di... Un luogo di...